Ciao, sono Penelope e vi do il benvenuto su I Love Italian Shoes Web News. Colori metallizzati, pronti ad indossarli? I colori metallizzati, non solo oro, argento e bronzo, ma anche nuance più vivaci e intense, saranno un trend molto importante per le nostre scarpe in tutto il 2015. Le scarpe rivivranno questo mood in ogni tipo di calzatura, dalle classiche décolleté agli stivaletti, senza dimenticare i modelli bassi, come ballerine e sneakers. Stivali Quissard Gli stivali modello Quissard possono essere scelti semplici, con borchie, elasticizzati o un po' più larghi sulla gamba. Il nero è il classico colore degli stivali Quissard, anche se non mancano altre tonalità, come il testa di moro. Fra i colori del 2015, poi, possiamo attingere a una vasta gamma di nuance, per essere vivaci e alla moda. Scarpe in stile garçon Lo stile maschile da garçon sarà una tendenza per tutto l'inverno 2015. I migliori stilisti l'hanno proposto come trend, che non è esclusivo del mondo delle calzature. Vi è libera allora le tipiche scarpe stringate da uomo, ma fate attenzione ai modelli. Se da un lato devono essere maschili, dall'altro devono avere degli accorgimenti che le rendano femminili e che slancino la figura. Questa settimana su I Love Italian Shoes Web TV, mercoledì nella rubrica Do You Like It? Diamo voce alle vostre opinioni. Giovedì su Laces Shoe Trends, con Orietta Pellizzari. Wedding advice di Giusy Massara, venerdì su Social Shoes. Su iloveitalianshoes.tv, tante anticipazioni, curiosità, notizie e rubriche sul mondo delle calzature e tanto altro ancora. Se ami le scarpe, sei già su iloveitalianshoes.tv